La community di Chef in Camicia ci ha consigliato pasticceria Carraturo, le sfogliatelle più buone di Napoli e le assaggiamo e le prepariamo. Una buona sfogliatella c'è bisogno di un ingrediente fondamentale, arte quanta basta. Con le dita si accarezza in modo che le sfoglie vanno in avanti e si apre a conchiglia, si ricotta semola e frutta candita e si chiude. Bene, adesso provo a fare una io e così vediamo che non sono per niente in grado di prepararla. Con le dita da sotto la bravura sta nel non rompere il tappo e vedo che è alla grande. Buona, ottima. Confesso, già l'hai fatta altre volte. Ma hai fatto, giuro. Il tuo colloquio è andato benissimo e non è pieno di 6 e mezza fa. Le mettiamo in forno e poi le assaggiamo perché sono molto curioso. Assaggiamo la sfogliatella riccia ragazzi, simbolo di Napoli. Grazie.